Sindaco, ci siamo anche se già entrato in funzione, ma oggi viene inaugurato il centro cottura di bomba che servirà le scuole di Cavriglia e quelle di San Giovanni Valdarra. Sì, una giornata importante, dopo tanto tempo che l'aspettavamo, finalmente inauguriamo questa struttura che fornirà i pasti a San Giovanni e a Cavriglia, una struttura molto avanzata da un punto di vista tecnologico sui processi di lavorazione, siamo molto soddisfatti del lavoro che è venuto fuori e credo ci sia da ringraziare tutta la parte tecnica che ha lavorato a questo progetto. Noi non potevamo che iniziare con la presenza dei bambini, delle scuole che oggi inaugurano il centro cottura, ma oggi è aperto a tutti, chi vuole può venire qui a visitare questa bella novità che il Valdarno ha e che spero possa diventare davvero un patrimonio del Valdarno e possa fornire i pasti alle nostre scuole per lungo tempo.